Registrazione video 4K Xiaomi Mi Mix 2S con stabilizzazione elettronica e stabilizzazione digitale Zoom di 8x Torno indietro, lo zoom è un po' lento da fare come avete notato Cambio di messa a fuoco, cambio di luce, veramente molto fluido e molto preciso Movimento rapido Proviamo la videocamera anche di notte Devo dire che la stabilizzazione è abbastanza evidente L'immagine onestamente la trovo un po' gialla come anche le foto al buio le ho trovate un po' gialle Provo a muovermi un po' C'è un bel grand'angolo questa fotocamera C'è un bel'angolo questa fotocamera C'è un bel'angolo questa Grazie a tutti